Dopo circa 40 anni sta tornando in alcune regioni del nord Italia la Lontra, soprannominata la Signora dei Fiumi. Il WWF riferisce una stima complessiva di esemplari nel nostro paese tra gli 800 e i 1000. Ancora troppo pochi tuttavia per non considerare la Lontra ben al di sotto del limite vitale minimo perché venga meno il rischio di estinzione.